Guarda il sottomarino, il sottomarino più fantastico di tutti. Guarda che roba, si può anche aprire, sai come si fa? Apri questo con molta forza, più forza, non la forza più timida e apriamo. Oh, questo? E poi il lego? Oh, credo che il lego sia tanto, ma non è grave, non è il personaggio, però guarda, si mette più dritto che si può. E così, è così, oh no, è caduto, un'altra volta, oh no, mamma mia, ci proviamo un'altra volta. Oh, mettiamo qua, ecco qua, adesso è un grande che. Adesso guarda, si può mettere anche giù, guarda, anche in contrario. Che roba, è una roba più incredibile. E' un sottomarino più fantastico giocattolo di tutte. E trovate anche il libro di Topolino. E' il libro di Topolino. Che io ho trovato di numero... Di numero... 3, 3, 5, 5. Una roba incredibile. E' anche... E' anche il Disney. Che roba incredibile. E guardate, ci sono anche storie. E' anche... Cose che fanno ridere. Guardate che roba. E ci sono anche giochi. E c'è, guarda, anche giochi. Anche possibilità. A tutto. E' a tutto di grande che. Questo qua, lo potete prenderlo. Chi l'ha preso? Guardate che libro fantastico. E' super fantastico. E' tutto. E quando ho preso il personaggio, allora posso mettere altri giorni l'ego. Perché tanto io ho dell'ego. E posso mettere quando voglio. Stacca, se non vivete peggere. Ciao. Ciao. Ciao.